Se volete avere il migliore servizio d'Italia per modare il vostro account su PS4 con 55 milioni in contanti, più di 50 deluxe vendibili senza problemi, il nuovo sottomarino del DLC carioferico come anche tutti i nuovi contenuti del nuovo DLC gratis, ufficio CEO con 60 posti auto con officina personale, Arena War con 27 posti auto e 3 meccanici, veicoli super a vostra scelta in omaggio, 8 garage da 10 posti l'uno e tanto altro tutto quanto incluso nel vostro account al prezzo più basso di tutta Italia. Potete contattarmi ad uno dei contatti che troverete nella descrizione di questo video come Telegram oppure Instagram. Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale, io sono Gricks, oggi ragazzi sono qui finalmente, signori mi è ritornato con un nuovo glitch bomba su GTA 5 online, come state YouTube? Spero tutto bene, oggi ragazzi sono qui dove come avete letto dal titolo vi porto la versione con amico per quanto riguarda il glitch per fare RP infiniti che momentaneamente è possibile fare, infatti per chi non lo sapesse è tornato a funzionare un glitch che si fa con le piante peyote, però le piante peyote di quelle che esistono in GTA online, che sono praticamente differenti rispetto a quelle della modalità storia. Infatti lo ripeto per chi magari non avesse visto il video precedente, stranamente Rockstar per qualche motivo ha aggiunto le piante dei peyote online, che sarebbero praticamente delle piante che se mangiate ci fanno diventare animale, le ha reintrodotte su GTA online per questa settimana, non si sa purtroppo quando appunto queste piante andranno via. Come funzionano praticamente? Ci sono queste piante online che se mangiate vi fanno diventare un animale e quando le andrete a mangiare il gioco vi darà 5000 RP, quindi si può sfruttare questo glitch grazie a queste piante peyote per fare 5000 RP ogni 30 secondi. Non sto scherzando ragazzi, riuscirete a salire di livello grazie a questo glitch molto velocemente e appunto ieri nel canale ho postato la versione in solo, se così possiamo dire, oggi vi porto la versione con Amico che a mio parere è molto più semplice e molto più veloce da fare. Inoltre guardate tutto il video perché vi darò anche delle soluzioni problemi, visto che durante la registrazione appunto della clip mi sono capitati svariati problemi che magari possono succedere anche a voi guardando questo video, potrete facilmente risolvere. Quindi niente ragazzi, detto questo, prima di iniziare sapete già cosa fare, mi raccomando lasciate il vostro mitico bel pollicionsons in su a questo video che a me fa veramente un altro piaccio, mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti e detto questo possiamo subito iniziare con il video. Quindi mi raccomando ragazzi un bel mi piace di supporto per farmi vedere che siete ancora attivi nel canale. Parlando dei requisiti, non ci serviranno requisiti particolari, tutto quello che ci servirà sarà un amico. Ora quello che dovete sapere è che se siete su PS4 potete usare le community per praticamente partecipare al vostro amico. Invece su Xbox credo che basti semplicemente partecipare dalla persona tramite il suo profilo Xbox e appunto potrete entrare all'interno della sessione con l'amico. Anche quindi un account a rango 1 può benissimamente fare questo glitch, quindi quello che vi servirà sarà semplicemente un amico. In sostanza quello che succederà nel glitch sarà che noi andremo praticamente a frizzare una delle tante piante peyote che possiamo appunto scegliere per fare questo glitch perché normalmente mangiando queste piante il gioco si ci fa trasformare in un animale, vi da 5000 RP ma la pianta andrà a despaunare quindi ne dovrete prendere un'altra per guadagnare altri 5000 RP. Invece questo glitch andrà a frizzare la pianta del peyote nella locazione scelta permettendoci quindi così di fare 5000 RP ogni 30 secondi. Poi chiaramente se siete più veloci e riuscite ad imparare il meccanismo del glitch, se così possiamo dire, a memoria vi risulterà ancora più facile fare appunto questo glitch in quanto in circa 20 secondi potrete guadagnare 5000 RP. Quindi per salire di livello io credo che sia un glitch veramente ragazzi tanta tanta roba. Detto questo passiamo subito alla spiegazione del glitch. Ebbene la prima cosa da fare sarà dire al vostro amico perché dovrà iniziare appunto il vostro amico il glitch. Quindi quello che dovrà fare al vostro amico dalla storia dovrà semplicemente aprire il menu di pausa quindi dovrà andare su online, gioca gta online e dovrà ragazzi creare una sessione per amici chiusa. Quindi se non sapete come si fa basterà appunto guardare in questo momento dal video. Quindi il vostro amico fa comparire il menu di pausa, va su online, gioca gta online e poi conferma di voler entrare in una sessione per amici chiusa. Quindi il vostro amico dovrà semplicemente lasciar caricare la sessione. Nel mentre che la sessione carica voglio dirvi una cosa ovvero che potete scegliere di avere il vostro amico nelle amicizie del PSN oppure oltre ad avere il vostro amico negli amici del PSN gli potete dire di entrare all'interno di una community. Se non ce l'avete vi consiglio la mia. Questo perché praticamente il nostro amico per iniziare il glitch dovrà creare la sessione e poi noi dovremo appunto partecipare in questo caso su PS4 tramite le community oppure il profilo del vostro amico su Xbox invece basterà semplicemente partecipare appunto dal suo profilo e quindi una volta fatto ciò entrare all'interno della sua sessione per appunto poter fare il glitch. Quindi quando la sessione al vostro amico avrà caricato come potete vedere il vostro amico si troverà in una sessione per amici. Quindi dovrà a questo punto aspettare la vostra entrata all'interno quindi della sessione. Quindi il vostro amico aspetta fino a quando voi non sarete entrati nella sessione e una volta fatto ciò potrete continuare. Quindi quello che dovrete fare voi sarà semplicemente su PS4 in questo caso andare a partecipare dal vostro amico. Io utilizzerò le community su PS4. Quindi se voi avete una community dite al vostro amico di entrare appunto nella vostra community. In questo modo lo potrete facilmente trovare nei giocatori in esecuzione che stanno giocando a GT Online presenti nella community. Quindi io in questo caso il mio amico si trova nella mia community. Se non avete una potete appunto usare la mia che è questa qui che state vedendo nel video. E quindi andare nella community, andare su in esecuzione, trovare il nome del vostro amico e una volta fatto ciò cliccare su partecipa alla sessione. In questo modo potrete entrare nella sessione con il vostro amico. Quindi cliccate su partecipa alla sessione. Una volta fatto ciò aspettate che il gioco vi darà il messaggio di attenzione dove vi chiede se volete veramente cambiare sessione e una volta fatto ciò confermate. Quindi a questo punto il gioco vi porterà all'interno della sessione con il vostro amico. Su PS4 non serve, ripeto, per forza avere una community. Potete anche semplicemente avere il vostro amico negli amici del PSN. Però grazie alle community possiamo dire che lo riuscite a trovare più facilmente. Ecco, diciamo così. Su Xbox invece basterà andare nella lista di amici, trovare il profilo del vostro amico e quindi partecipare. Una volta che entrambi i giocatori saranno all'interno della sessione per amici, a questo punto potremo iniziare. Quindi come vedete io mi trovo all'interno della sessione con il mio amico. E quindi a questo punto possiamo iniziare a fare glitch per fare RP infiniti. Quindi quello che dovrà fare il vostro amico, una volta che voi sarete entrati, sarà semplicemente aprire il menu di pausa. Dovrà andare su online, attività, avviattività, create da Rockstar, missioni. E dovrà quindi ragazzi avviare la missione chiamata Un lavoro da Titano. Una volta che avrà avviato la missione si troverà all'interno della sala d'attesa. Quello che dovrà fare all'interno della sala d'attesa sarà un passaggio molto importante. Questo per evitare che l'attività possa avviarsi e quindi di conseguenza farvi perdere tempo. Quindi quello che consiglio di fare sarà semplicemente confermare le impostazioni, andare su sala d'attesa e impostare la sala d'attesa su chiusa. In questo modo quando voi andrete ad entrare nella missione con il vostro amico non ci sarà possiamo dire il tempo che una volta scaduto fa avviare la missione. Quindi dite al vostro amico di chiudere la sala d'attesa. In questo modo quando entrerete appunto nella sua partita non ci sarà il tempo che una volta scaduto vi farà avviare la missione. Quando avrà chiuso la sala d'attesa dovrà premere il tasto cerchio per tornare al menu principale e quindi si troverà nuovamente sulla schermata della difficoltà, blocco visuale eccetera. Ora ditegli semplicemente di mettersi in AFK piazzando un elastico sul joystick se non sapete come fare. Qui in alto a destra vi lascerò una foto che appunto vi mostrerà come può mettersi il vostro amico in AFK. Quando il vostro amico si troverà quindi in AFK nella missione allora voi a questo punto potrete iniziare. Quindi per iniziare tutto quello che dovrete fare sarà semplicemente cercare una pianta del peyote. Se non sapete dove trovarne una potete usare o quella che state vedendo nel video oppure ragazzi in descrizione troverete il link del mio canale su telegram. Quindi vi basterà semplicemente entrare e lì appunto troverete la foto con tutti i peyote online quindi la loro locazione. In modo che potete scegliervene uno per appunto fare il glitch. Oppure ripeto usate lo stesso che sto usando io in questo momento del video. Quindi se volete usare il mio stesso peyote che sto usando nel video la locazione ragazzi è questa qui. Praticamente si trova al centro di Vinewood se così possiamo dire. Un consiglio che vi do per trovare questa posizione è semplicemente prendere come punto di riferimento il nightclub se avete appunto comprato il nightclub più costoso. Quindi se avete il nightclub più costoso potete facilmente trovare questa pianta del peyote perché si troverà in questa esatta locazione. Quindi mettete in pausa il video per appunto vedere la sua posizione se avete delle difficoltà. Una volta aver trovato la pianta possiamo a questo punto iniziare il glitch. Quello che dovrete fare sarà anzitutto posizionarvi davanti la pianta da fare in modo tale che il gioco in alto a sinistra vi darà la scritta di premere freccia destra per mangiare il peyote. Quando avrete questa scritta in alto a sinistra allora potrete proseguire. Quindi quello che dovrete fare con questa scritta sarà semplicemente premere il tasto pausa. Quindi fate comparire il menu di pausa dovrete andare su online giocatori. Andando su giocatori troverete praticamente il nome del vostro amico. Quindi ora andate sul nome del vostro amico e cliccate il tasto X o comunque il tasto corrispondente sulla vostra piattaforma. Noterete che si aprirà praticamente un menu centrale. In questo menu centrale ci sarà la voce chiamata unisci di a partita. Ecco voi dovrete cliccare sulla opzione chiamata unisci di a partita. Quindi ci cliccate con X e una volta fatto ciò il gioco vi darà un messaggio di attenzione dove vi chiede se volete veramente cambiare sessione. Insomma ragazzi il classico messaggio. Ora ascoltatemi bene. Quello che dovrete fare su questo messaggio sarà semplicemente premere 3-4 volte freccia a destra. E dopo aver premuto 4 volte freccia a destra confermare con il tasto X il messaggio di attenzione. Quindi premete 3-4 volte freccia a destra su questo messaggio e poi tasto X per confermare. Se avrete fatto questo passaggio correttamente praticamente il gioco poco prima che vi porterà dentro la missione vedrete il vostro personaggio seduto e poi in piedi. E quindi vuol dire che appunto avrete fatto questo primo step correttamente. Quindi se vi fa questa schermata di caricamento tra virgolette allora vuol dire che avrete eseguito questo primo passaggio correttamente. Ora vi ritroverete praticamente all'interno della missione con il vostro amico. Vi basterà semplicemente uscire non appena avrete visto nello sfondo possiamo dire questo flash di colori e poi i colori torneranno normali. Ecco appena noterete che i colori torneranno normali allora a questo punto potrete uscire dall'attività. Ora quello che può succedere è che andando ad uscire dall'attività se vi ritroverete con questa schermata dove praticamente le texture non saranno state caricate. Il gioco quando uscirete dall'attività vi darà 5000 RP e quindi uscendo dall'attività vi ritroverete direttamente con il vostro personaggio e non quindi con l'animale. Questa è un'altra versione che appunto mi è successa durante la registrazione di questo glitch che appunto potete usare. Normalmente quando si esce dall'attività a questo primo giro possiamo dire vi ritroverete con l'animale. A volte può succedere che andando a fare il glitch quando uscirete dall'attività mentre state uscendo appunto il gioco vi da IRP vi fa uscire dall'attività e vi ritroverete direttamente con il personaggio. In entrambi i casi ragazzi il glitch ha funzionato quindi questa è una delle versioni che appunto esiste per quanto riguarda questo glitch. Ora vi faccio vedere direttamente l'altra versione ufficiale tra virgolette che si fa appunto con l'amico. Quindi se vi succederà questa prima versione tra virgolette chiamiamola così nel mentre state facendo il glitch allora lo potrete a questo punto reiniziare dal capo perché il glitch sarà già finito. Infatti come avete visto il gioco vi avrà dato 5000 RP. Quindi ora se volete ripetere il glitch lo potrete fare quindi vi spiegherò come fare. Quindi a questo punto anzitutto come potete vedere la pianta del peyote non è despaunata quindi la possiamo riutilizzare per appunto fare altri RP. Quindi per fare altri RP e quindi ripetere il glitch basterà semplicemente rieseguire tutto il glitch da capo. Quindi mettetevi sopra la pianta del peyote fate in modo che il gioco in alto a sinistra vi darà la scritta di premere freccia destra per mangiare il peyote. Quando vi troverete con questa scritta aprite il menu di pausa andate su online giocatori e andate a cliccare x sul nome del vostro amico. Il gioco vi aprirà questo menu centrale e in questo menu centrale dovrete cliccare x su unisci di a partita. Quindi ci cliccate e una volta fatto ciò il gioco vi darà nuovamente il messaggio di attenzione. Ora su questo messaggio di attenzione come prima dovrete premere 3-4 volte freccia destra e subito dopo confermare con il tasto x. Quindi prima premete freccia destra 3-4 volte e poi ragazzi confermate con il tasto x. Veramente niente di più semplice. È veramente ragazzi semplicissimo questo passaggio. Se avrete fatto questo passaggio correttamente il gioco poco prima di portarvi nella missione con il vostro amico vi farà vedere il vostro personaggio se così possiamo dire e poi appunto vi porterà nella missione con il vostro amico. Ora quando sarete nella missione praticamente nello sfondo ci sarà questo flash di colori. Voi dovrete aspettare che questo flash di colori praticamente sarà finito. Quando i colori nello sfondo torneranno normali allora a questo punto potete uscire dall'attività. Quindi su ps4 saranno i tasti cerchio e poi tasto x per confermare su xbox i tasti sono gli stessi. Quindi quando uscirete dalla missione a questo punto ragazzi vi ritroverete con l'animale e quindi questa è l'altra versione che appunto si può fare per fare rp. Se invece vi capita che per qualche strano motivo le texture non dovessero caricare e voi andate ad uscire dall'attività il gioco vi darà gli rp e potrete rifarlo da capo senza che quindi vi ritroverete con l'animale. Comunque è abbastanza semplice questi sono due metodi diversi. Tornando quindi al secondo metodo a questo punto quando sarete uscire dall'attività vi ritroverete con un animale e quindi significa che il glitch sta funzionando. Ora per concludere il glitch step veramente semplicissimo quello che dovrete fare sarà aprire il menu di pausa andare su online attività avvia attività create da rockstar missioni e dovrete a questo punto ragazzi avviare la missione chiamata un lavoro da titano. Se non ce l'avete va benissimo un'altra qualsiasi missione non preoccupatevi lasciate semplicemente caricare la missione quando la missione avrà caricato e il gioco vi darà la possibilità di uscire voi appunto ragazzi uscite dall'attività. A questo punto quando uscirete dall'attività come potete vedere boom vi ritroverete nuovamente con il vostro personaggio e vi saranno stati accreditati altri 5000 rp e quindi significa che avrete eseguito questo glitch correttamente. Infatti come avete visto ragazzi si fa veramente in due passaggi contati quindi ogni due step appunto fate 5000 rp infatti come avete visto ragazzi è veramente veramente molto molto veloce come metodo per guadagnare rp soprattutto se si è a rango basso Considerando che 5000 rp insomma ragazzi non sono per niente per niente pochi a questo punto ragazzi come state vendendo dalla clip se volete ripetere il glitch lo potrete rifare tranquillamente In quanto la pianta appunto non disponerà mai e quindi sarà sempre nella locazione da voi scelti e quindi la pianta non andrà mai a scomparire quindi grazie a questo glitch appunto voi andrete a baggare possiamo dire questa pianta ok E quando avrete baggato la pianta non sparirà mai da quella posizione quindi potrete fare tutti gli rp che volete grazie a questa pianta Ricordatevi quando sarete nel primo step di far aspettare quel flash di colori che appunto vedete nello schermo Quando i colori torneranno normali a questo punto potrete proseguire uscendo dall'attività poi vi ritroverete con l'animale basterà semplicemente avviare una missione di rockstar ed uscire A volte può capitare che durante il primo passaggio praticamente restate bloccati nella schermata di uscita In quel caso quando succederà basterà semplicemente dire al vostro amico di togliere gli elastici quindi confermare le impostazioni e dovrà praticamente buttarvi fuori dalla sala d'attesa Come si fa? Basterà semplicemente andare su visualizza informazioni persone entrate una roba del genere quindi dovrà entrare in questo menu probabilmente vi metterà una clip Dovrà cliccare sul vostro nome quindi cliccare X gli si aprirà un menu centrale e in questo menu centrale dovrà semplicemente buttarvi fuori tramite l'opzione espelli Quando vi avrà espulso dall'attività a questo punto potrete proseguire infatti ogni tanto può capitare che fate il glitch nella prima fase quindi nella fase che c'è il flash se così possiamo dire Quando state uscendo il gioco vi fa rimanere bloccati nella schermata di caricamento ecco quando succede in quel caso basterà semplicemente dire al vostro amico di buttarvi fuori e poi di rimettersi in AFK Quindi niente ragazzi per questo video è tutto io spero abbiate apprezzato sinceramente che sia uscito lungo non me ne frega un cazzo Ci tenevo comunque a fare un video completo riguardo soluzioni problemi e dei metodi che appunto potete sfruttare per fare questo glitch Vi ricordo di approfittarne perché non si sa quando Rockstar toglierà queste piante dei peyote online quindi mi raccomando ragazzi fatelo prima che sia troppo tardi Io spero ragazzi abbiate apprezzato se così è stato mi raccomando lasciate il vostro mitico bel poli shansons in su di supporto che a me fa veramente tanto piacere Mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti Prima ancora di concludere vi ricordo che se volete sapere il motivo per il quale in queste settimane non ho pubblicato video Vi lascerò un video nella descrizione caricato sul secondo canale dove vi spiegherò tutto quanto Quindi se siete interessati magari volete saperne di più sul perché sono sparito tutto quello che mi è successo vi lascerò questo video nella descrizione Inoltre vi ricordo al solito che se avete bisogno dei migliori servizi in Italia di modding per il vostro account su PS4 Oppure il recovery per pc al prezzo più basso di tutti quanti potete contattarmi anche qui ad uno dei contatti che trovate a descrizione di questo video E niente io vi saluto da Gricks è tutto noi ragazzi ci si becca come al solito con un prossimo video prossima live o un prossimo glitch Bella voglio Ciao Ciao Ciao